e ottenabbo e ottenabbo comunque buonasera a tutti ragazzi e bentornati su heroes of the storm mutati ok perfetto sono arrivato a mutarmi appena in tempo ok oggi sono di buon umore tra virgolette con a quanto pare con tirante perché mi sono accorto di essere diventato un prosciutto tutto di colpo allora c'è anche mio fratello effettivamente dov'è mio fratello eccolo qua si lo so che sei qua santo non mi farei tremare il tutto sono stati esposto mattia ok eccolo qui devo mutare qua mio fratello prima che esplodo ciao mattia ok siamo purtroppo in quattro al momento comunque vedi che c'è una interferenza micidiale quando cerchi di parlare a te a te cioè devi avere la preamplificazione del microfono molto alta praticamente perché si sente proprio interferenza vabbè non ti preoccupare comunque sì se vuoi usare zario oppure vabbè non è che avremo mai un supporto vero e proprio vabbè magari abbiamo un colpo di fortuna e troviamo un supporto magari deve essere la cosa leoric da solo è chiaramente sì cioè comunque il mio obiettivo principale con tirante era cercare di trovare la build più adatta per chi vuole cominciare a giocarla purtroppo non è facile in sé come personaggio perché per i suoi skill shot per quello che fa in generale perché c'è scritto supporto però in realtà è un personaggio che si autosostiene e che comunque supporta la squadra in modo piuttosto differente rispetto a quello che uno si aspetta quindi non è non è un healer vero e proprio e abbiamo macellaio come quinto giustamente e contro abbiamo nuova tassa d'arsonia manto grigio e asmodank asmodank l'ho chiamato accidenti non vado per la quest allora ma ti direi proprio di no ti direi proprio di no vado mano alla dipendenza io ti direi di sì e zui mauro ciao mauro ad app cellulare ma io ti direi di andare su una cosa molto basata sulle barriere qui perché hanno un burst abbastanza interessante non hanno un vero tank loro stavo notando adesso vabbè nemmeno noi beh ma le oric diciamo che c'è anche zaria in generale sì perché la vuoi chiamare zaira zaira e invece la chiami zaria perché effettivamente si chiama la madre russia effettivamente è vero ok in realtà c'è che è un pochettino complicato per lui parlare in questo momento liberamente lo dico tranquillamente così c'è per essere è chiaro il mio obiettivo io sto parlando tre ore a classe ah ecco ok benissimo stefano è la felicità nei quick match fatemi capire è infinita allora questo lo sai che cos'è il gabbiano eccolo è sempre il primo non si può sbagliare mai almeno che non si voglia utilizzare per qualche altro motivo ma c'è nuova abbiamo un super murloc che è diventato si è diventato una barbara gabbiano guarda le mezze mi ha stonato ragazzi oh e lo prende nice nice l'aspetto della bomba c'è morto solo stefano devo farlo c'era vai oh aspetta ci prova il gabbiano no il mezzo la cosa è sti questo qui è la fiera ok ragazzi c'è asmodan che sta facendo ovviamente il tipico specialista è andato di spaghetto questo morirà male io vabbè intanto mi prendo uno stack così prendo gli expo ragazzi di solito stefano sì esatto è questa la cosa buona comunque stavo pensando nei prossimi giorni di fare delle live tipo particolari dove praticamente faccio le guide nello stesso momento perché siccome ci sono 25 personaggi che hanno bisogno di essere rivisti direi che potrebbe essere una cosa buona provare a fare una live poi ovviamente separare i vari tra virgolette episodi c'è un gabbiano però c'era purtroppo no va davanti gli buttano e beh si ferma sarebbe una bella idea è un'idea non hai preso da questo il gabbiano no alessio sto pensando una build più adatta per i giocatori che vogliono cominciare a usare trund sì perché la è onestamente notato che mi piace molto di più del gabbiano perché è più consistente è difficile però onestamente su tirante non ci sono skishot facili la doppia bu alla fine ragazzi non ho molto mano e voi non avete abbastanza vita tutto a posto gabbiano prendi ex per il momento c'è noi perché sono tanti stanno salendo a me fai benissimo sì e beh sono d'accordo che il gabbiano sia utile però quello per cui voglio usare il gabbiano è avere informazioni su quello che sta facendo ma alla fine abbiamo fatto full team cosa stai attenzione nuova no non siamo tutti full no quindi questo macellaio è ah mi zia l'ho colpito lol cioè comunque in generale farò come se facessi video però durante il live così magari potete capire esattamente che cosa passo quando cerco di fare una guida ma per ora manco la vulnerabilità gli metto stefano non lo so ti piace lo spaghetto lo so mi sto rontando a me non mi ha preso quindi questo significa dove è quello scaldabagno che mi faccio fare prendo qualche altro stack è qua è mid purtroppo stefano fai una cosa per ora sali un secondo non ti preoccupare io gabbianizzo un attimo è occhio non devi occupare perché è occhio io non ci vinco purtroppo perché ha troppi hp io non faccio abbastanza danno però vabbè e se soprattutto c'è sonia con uno di là sopra invece di mostrare la forfora non puoi scendere no e mentre macellaio perde tempo guarda guarda non sta facendo niente eh no manto grigio era qui cerco di prendere ex anche se mi piacerebbe fare stack ah io niente devo tornare ah no niente ci ho provato macellaio chiede aiuto ma cosa contro cosa esattamente ah ok ma manto grigio non lo sa che comunque contro macellaio non vince eh però sai tre persone a top potrebbero essere interessanti help puntini 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 arrivo a bottarmi contestagli l'altare eh aspettati dov'è esattamente sto asmodan ma non è qui no nananana no ok bold ce l'hai una qui yes aspettati che ti rimetto a posto anzi perché la build che faccio solitamente mi permette di curare abbastanza velocemente visto che Tyrande non sa cosa siano delle cure decenti quella sembra l'occhio che sta scendendo manto grigio eh se scende manto grigio è un problema purtroppo il nostro dps è a meno di 8000 e c'è anche tasto da in zona mi sa oppure era il minion che ci ha visti eeeh ma a tasso dare qua vabbè c'è letteralmente si sta fermo a prendersi tutte le cose c'è a me sta bene nooo ottima guarigione che ottima guarigione ma che vabbè c'è pure nuova eh si saliamo saliamo per ora ciao Stefano che ci fai qua eh lo so che push ma però abbiamo un free stack qua easy soprattutto lo possiamo ammazzare facilmente visto che con Trun gli posso mettere il colpo si si ah sta scendendo quindi scendiamo anche noi oh forse no è un pochettino in dubbio il ragazzo eh attenzione nooo vabbè l'importante è che stai bene qua si servono gli ultimi due stack e poi dopo di che posso stare un po' più tranquillo col mana perchè fino a quando non faccio sti dieci stack lol nice Stefano oh voglio prendere nuova però come non detto ando ammettila di potermi globo grazie arrivederci ok perfetto ho preso i due stack che mi servivano effettivamente thank you oh vai manto grigio vai vai ah l'hanno ucciso no eh hanno ucciso invece mio fratello vabbè ma vai st ma tu eh vabbè sono scusi da no no sono io scusi da eh sì ok più che altro non ho capito la me come è partita così tanto ogni tanto sembra che sei arrivi mezz'ora dopo non ci credo guardano e questo è un problema e fai spawnare e guarda vai vai guardali quanti mezzi mamma mia il gabbiano eh a bot intanto quello ah ho preso soltanto la copia di nuovo lo so che sta spaghettando Sandro sta arrivando no fermati sì oh grazie per eeeh yeh che cosa yeh hh boy ma c'è andassi iroplus grazie per il resub che dite eeeh sì yeh hh boy ok è stato divertente questo Oh mio dio Ma che cosa gli da visione Ragazzi sono andata con l'apertura Ma cosa Vai ragazzi Ho messo la tebolezza Oh mamma mia Invece come si chiama Mantogrigio è madderino Vai 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 C'è nuova che mi fucussa Eh si Presa Dai lì sotto Aia Oh no così è allucinante Quello di HHH boy Si è evoluto Oh mamma mia che cavolo è Facciamo nuova Peccato che Asmodan purtroppo mi uccide Si ma è esagerato il raid Si Mentre ero off camera Ho preso qualche 3-4 MVP consecutivi Ora in questa partita sto fedendo Che altro Anche la loro squadra è fenomenale Perché Il nostro macellaio perde tempo Che mostra la sua incredibile forza Che poi come l'ha detto Sembra un'altra cosa Non lo so Non ci ha fatto tantissimo caso DPS Ci penso io Dove vai? Dove vai? Me lo spiego Tu ci muoca Sto macellaio Non capisco come faccia a perdere costantemente contro Mantogrigio C'è caspita sei macellaio A parte quello Come faccia costantemente a essere fuori di posizione a caso A lui per dire Oh my god Si sono d'accordo con te effettivamente Ah pure mira la gola Ecco che mi ha sciuttato Si esatto No vabbè guardate la ulti di quel macella Ma veramente si è fatto Mamma mia Ha caricato Asmodan In mezzo alla sua ulti ai minion Si Poi ha sbagliato Ha missato la R Che non so come faccia E se l'ha andato Ok E poi si è fatto ammazzare Perché giustamente Si Ah fantastico Gabbiano Senti io uso l'altinette Tanto non ha poi così tanto cooldown Da dovermi preoccupare di tenerlo Ma che Beh volendo possiamo ancora farcela Dai non ha fatto poi così tanto danno Rosaro Yeah boy Questo carica a caso Che pazzo È madderino Cioè sotto a un drago cavaliere Onestamente io non caricherei Se fossi macellaio Oh Vabbè ho preso lo stack Vai vai Dai abbiamo il late game ragazzi Coraggio Che altro è bello Vedervi stare sulle fiamme Ragazzi questo tasso E tanto usa lei Scappa E perché non la sto usando Mi sono ripetendo Vedi Io vedo una tumulazione di Stefano Io vedo una ultima Io vedo che sono morto Ah 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 Ho rallentato Scappa scappa Ah No Grazie macellaio Per essere arrivato adesso E beh grazie Mamando grigio È andato per i cocktail E si sciotta Guarda 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 come carica E intanto E mentre Asmodan letteralmente Sta fuori dal range Della torre È finita Ok Non abbiamo Un gran che di possibilità Di cambiare Ma quanto carne sta 70 Sì effettivamente Non nello sconder Soltanto all'inizio Tyrande Ti sei perso 10 minuti Mentre Asmodan Eh finalmente Io le abbasso La resistenza A Sony Perché sennò Il nostro DPS È talmente potente Da Essere praticamente Ridiculous Lo sto bodybloccando Ancora più bodybloccato Ancora non la di Quindi Eh vabbè È l'animale proprio Vabbè se lo merita Nessamente Una piroblast Il gabbiano Dai ragazzi Abbiamo recuperato Un sacco Dopo posso Nermi o meno Così Macellaio non vi lascia Solo Così possiamo Reportare qualcuno Che conosciamo Ah c'è il Il Mi gatto E non sa lui Mi gatto E non sa lui No No Attia Run Oh my Sott'attico che ti Metti a posto Eh sì vabbè Run Ah Esagerati Prendiamo il livello 16 Dai che ce la possiamo fare Macellaio chiede aiuto Andiamo tutti a top ragazzi Cioè camminiamo tutti assieme Manca un globo Oh vabbè Attaccalo Attaccalo Adesso cerco di Viene tipo Con la lendicchia Eh quindi Kited Ebbè Mi ha fatto un bust Che mi ha portato A un quarto di vita Tipo in un Niente A me Con un morso alla gola Lo so Là c'è nuova Eccola Ho gabbianizzata Quindi Vabbè Anche se fa la copia Eh appunto Ormai Eh un pochettino Corrosi Più che push E' andato Dobbiamo pulire anche Mamma mia Sto gioco è diventato Limpatico No sti specialisti Così sono Rotto leggermente Le palle Di neve Eh vabbè Prego No perché tutti gli specialisti Fanno così Che Su tas No Gabbiano Dai Ma non ci sei minion Non ci credo Si salva Eh si salva Eh bot 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 No vabbè Guarda le tre catapulte Ah Date da me Finita apposto stai Sì Certo Ma che vuol dire Kaitare Omg Saro Proprio dopo questo Il report è potentissimo E se ti dico che nemmeno Io lo so Eh E ti reporto pure a te Ok Ma che cosa È la forma Nabba di Saro Invece di diventare potente Diventa Nabbo No Ma che lei Ha capito finalmente Io capisco Il gabbiano L'ho fregato L'Achille No kill for the butcher Tanto l'importante Che prende la canna Dove lo so Invece di riportarmi Dimmelo No Significa Letteralmente Giocare Kaitare il nemico È Come posso spiegarlo In modo normale Tipo Attaccare il nemico Mentre Che scappi Corri Corri Vai santo Prendi quell'altare Tanto il nostro Intanto Macellare Tirami un gabbiano Aspetta un attimo E che qua io E mentre tassa Dar perde tempo Tieni Mangia Vai santo Che tassa D'arei scoppiato Ma che è successo La sotto Ragazzi Avevo Santo Dobbiamo Io devo andare A difendere Perché nel frattempo Qua Mi caspasso Come un aquilone Esatto Ti fai Assicurare Quando il supporto Ti supera in danni Che capisci Che non stai facendo Beh Tayrande non è un supporto È quello Il punto principale È comunque un problema Eh sì Eh sì Beh Nel senso In questa partita Stiamo Con nuova Ovviamente Manto grigio Asmodan Ragazzi Ci sono troppi mercenari Che qua ci metterò Dieci anni A pulire Due secondi Arrivò io Mi sa proprio Che faccio così Mamma mia Guardalo Ma vai a quel paese Ora che fai Cosa ci hai concluso così Ti sei fatto ammazzare Non ci hai concluso nulla Io sto cercando di pulire Nel frattempo Mentre che cammino Ma c'è là Io spero che ce la faccia difendere Un attimo da solo Come non detto Non so Non so su chi abbia messo il brand Ma mi fido Occhio Bella santo Dai ce la possiamo fare ragazzi Ci basta un gecetto Colpiscila Non gli abbiamo distrutto ancora No se Non ho la cura Adesso si Mamma mia Che No Eh si ciao Ah si State là dentro Rimani qua Ho ucciso l'ova Ottimo No Ok Non ha capito questa allora Non comprende Vai 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 Dov'è il manto grigio Oh mio dio E infatti sto dicendo Dov'è il manto grigio Aspetta Arriva No 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 Guarda da lui Vieni qua No Baldracco No Tu muori Ah 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 Ok No bot Pulisci bot poi Mattia Sì 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 Ah si ci sta andando Il mio fratello Ok Vado un attimo Top Purtroppo Se perdiamo tempo a pulire Gli altari Sente se io ora Abbasso i danni inflitti dai nemici Per questo ho preso sto talento Se qualcuno se le sta chiedendo Perché ho preso sto talento Finalmente questa squadra ha preso forma Speriamo non troppo tardi Abbiamo preso No tardi Sta forma Beh io sono solo ragazzi E Qua Tra un po' Mi piccheranno In una maniera Abominevole Ok Forse riusciamo a prenderlo mid Ci provo Ci provo Non è una buonissima idea Perché secondo me Arriva nuova Iiii Pfff Maledizione Lo sapevo No c'è tasso Spaghettato E poi non puoi uscire dal range Di quello spaghetto Perché è troppo veloce Eh soprattutto Si amplia Eh appunto Oh maledizione Eh vabbè Guarda Ora salta Guarda come salta Eccolo Ciao 1 2 Morto Dai impegnati Hai finito la questione Non ce l'avevi la barriera Prendi questo Si è l'usata Ma Ah pure Proprio te l'ha cancellata pure Quella Si 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 Inutile Mi fa 800 di danno A colpo Ma perché non c'ha mai il brand Quello Stiamo girando Dappertutto Non so dove andare A sbattere la testa Tra poco Ma faggio Ah Ti ha messo su tasse Darfurbo Si proprio Ai 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 Eh si Ciao Grazie Stai Un attimo solo che torno fu vita Si santo ma tanto Sto drago cavaliere Non lo buttiamo giù Come se non la vedo eh Mi raccomando Eh maledizione Ma ha preso la copia E infatti Vabbè Vuoi restare tu qui Silenziata Eppure che balla Cos'è Disrespect Il disrespect Non ho detto giusto o sbagliato Non ne ho idea santo C'è Eh gg dai Alla fine Potevamo farci Eh Non potevamo fare Assolutamente nulla Non avevamo uno specialista per caso Non avevamo uno specialista Io ho fatto tipo 120.000 di danno Sì vabbè Ci avevamo Keltas Che sappiamo tutti Che ormai il suo off ruolo è quello Sì ho fatto 126.000 Però Io voglio fare una grandissima cosa Aspettate Vai santo che cosa hai trovato Quattro comuni Sì Ma Vado a dire Yes Propriamente Sai che ti dico Fatemi utilizzare un pochino Ma Keltas Poi io Stefano Sei sicuro di volerlo fare? Allora io Ti sciala meglio Mi muovo Il pregato serve un posto per Cove Allora Per Rem Sarebbe comodo averlo Ma cosa? Entro in boccale Ma non posso accendere il microfono Ok Mi gatto e non sa lui Dov'è? Questa Vabbè Questa Puntini 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 Ragazzi qualcuno che lascia sto posto quindi Decidete Vabbè Vado io? Decidete Fate pari o disperi Non lo so No no ma cosa? Ok gli dovevi rispondere Estica Hai anche ragione Nani dispari Pari o dispari I miei decreti Sono assoluti Tre Perché tre? Quattro Cioè quindi sette L'hai fatto vincere lo stesso praticamente Sì Sì Vabbè ma non ha molto senso così Esatto Vabbè Vado io dai tranquillo Ok Thank you Decidetevi Io non voglio mettermi in mezzo a ste cose Poi Giochiamo sti numeri Tre quattro cinque Sì Sì Ok Che altro? Allora chat vocale Audio Chat vocale Eccolo Allora ingresso No No Oh cavolo Scusate Cosa volete? Frontline? Mmm Ti sento babbo Non parlare Quindi Allora Tu mi stai dicendo Che mi senti Però non dovrei parlare Cioè non scrivere Ok Mamma mia Embriaco Proprio da report Ok Ma quant'è Mio C'è proprio da report Di quelli potenti Due maghi Vabbè Volevo andare di mago Tranquillo Volevo riscattare Il nome del buon salama Però Del salamino Ragazzi Se vuoi un support Non possiamo sempre andare Di tarande Cioè tarande Non cura La vita Eh sì Ciao Cos'è Aspetta Vi faccio vedere un'altra cosa Un giocatore più inutile Dai Andiamo Dai Via No no Aspetta Sando È che Stefano deve trollare Le rope le palle Muoviti Non siamo Sull'armo Ma che fa danno in questa Pasquale No no Mi piace Stavo uno specialista un po' più Io vorrei far salire Di livello Tairande Visto che mancano 16k di Exponestamente No non mi piace Non abbiamo una buona Frontline Niente Facciamo così Eh Eh Su Discord Mi sento in Intanto succederà Sarei 12999 Ok Aspetta Scusami un attimo Allora dov'è Modalità Streamer No attiva i suoni Per favore Grazie Ok Sì santo L'hai capito No l'avevo mandato un attimo a Saro nella stanza Mi catte non ha bui Proprio quello è il finale finale Oh cavolo Jimity Kratos Ma perché hanno doppio support questi? Eh io ve lo dico Quanto abbiamo perso male L'uso è l'extrasa Davvero? Cioè con le Oric Artas e Jimity No ma io Io reggi quitto Scusami Ma non si può Com gom g Abbiamo Silvana L'abbiamo vinto Questi non li butti giù Mangano a colpi di legno Ebbè certo Ma che tanto Abbiamo Silvana No attenzione Un pregio C'è Jimity Che ti spacca Ragazzi tranquilli Ci sono io come support Mezzicata Aspè va Crash Crash Sono crashato Senza riflettere Justamente le Oric Esatto Accende proprio il potere Il potere del noob Ok vampa lunare Andiamo Vabbè io qui più tanko sono Meno tanko sono Meglio è mi sa Sono alleati perché ti conviene A entrambi Eeeh Beh bella domanda Effettivamente In sintesi Ma se solo tanko Eh si però La vedi che c'è il ciuccia C'è il ciucce Lo so Lo so Lo so O fornisco Mi faccio Verodicamente resistenza magica Ma resistenza magica Da chi E impatti Il gabbiano Ma forza prende nessuno C'era Eeeh L'ho preso invece E pur vedendolo Perché c'è Che bello Oggi è domenica Oggi c'è la puntata Vabbè E' normale Quello m'hanno Certito Eeeh A due a due Senza botteglie Chiaramente Io ho beccato Agli artas No Scine Gabri Hai intenzione Di fare Nacionalizzato E' fu così No Che asfaltarono In tante No 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 Aia Jimmy Ti mi sta picchiando ragazzi Anche a te Stefano smetti di andare avanti Quando sei con quella vita Sei un broccolo Sei il supporto Non cura Si ma in quel caso E' colpatura Non è vero E' sempre Si stava sfruttando la cura No in quel caso Il matchmaking Ma che cavolo Dai due support Si Domani Sfatti a dare Guarda Tu ora Guarda attentamente La vita di Leoric Piano Non lo colpite Guardate ora come sale Perché non dovrei colpirlo Ragazzi Perché non sono andati Sì sì Sono scambiando Sfatti Veramente Stavo Illusi Ah quel mezzo Sarà una partita Così colluso Che scappano Non abbiamo visto Ancora niente Ragazzi Vediamo Quello Solitario Sotto Ci serve Soak Ragazzi C'è Reynor A top Che è libero Io devo fare stack Della mia E Sinceramente Non voglio fare Come la scorsa partita Che ci ho messo Dieci ore Per fare Dieci stack Perché ero solo Poi è che Allo stesso tempo Chi è che deve Prendere X Lasciate Se ci sono due support Ti pare come va a finire Sta partita Non vuol dire niente Scindere Vai Leorik Ti pare Scappa Scappa Fuggi 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 Dai sono Una volta Ragazzi Andiamo a prendere Reynor Una mano Per favore Lo so Sandro Che ti serve Una mano La mia è bella Grande C'è Dove Perché Nonostante Nonostante Vuoi sapere Perché Vai Saro Vai Ma come Ma è silenzioso Beh è un tratto Passivo Quindi Vai 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 Dove cacchio sta andando Sto Reynor Wow E come basta Sei Silvana Già siamo in ritardo Per l'appuntamento Davanti al core Arrivo Stefano Arrivo pure io Tanto c'è un Gabbiano Pronto per Per l'usio Eccolo proprio Gli è arrivato in faccia Vai 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 Stai Non pigli le scatolette Di donno Grazie Ma perché Mi deve mai mangiare A me È molto Molto più velocemente Del previsto Eh no Che è sto rallentamento Ah le oriche che rompe Ragazzi Perché si ferma sto Reynor Ok bravo Grazie Gabbiano No 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 Vai santo Santo Ok grazie Non è che si è fermato Per fare sta cu Forse era tranquillo Ragazzi Sì l'ho notato che botto C'è un pochettino di gente Vai Yeah È la cura La cura La cura Ok Splat Yeah Tutte e tre proprio Tre stack così Ho fatto tre stack Sì Non lo sono so fariti Aspetta Sono un pochettino Marderini Gabbiano Meglio per noi Eccolo Impedisce ad Alex Trasa Di tornare Uh Mi gatteno Gabbiano Eccola la kill C'è il gegetto Sono Ci sono Vai Alex Trasa Che fai Non ti puoi curare Sì Saro Non ti puoi curare La banana Vieni qua e cura me Che sono mezzo morto Non è la D Non è la D Vabbè Non ti preoccupare Mi curo da solo Mi curo da solo Non ti preoccupare Aspettate Per fortuna che c'è il tank Ragazzi Il tank è L'assoluto Ah Stack Sono a 18 Eh Mi Ma quante Quanta è la missione 20 Però lo stack all'infinito Non so se lo sai Ma lui se non ha capito Che Se vuole rimanere qua È peggio per lui Che cacchio sta facendo No Io ho la bomba Ragazzi Finito Eh ciao Alla fine sono morto io Perché praticamente C'ho proprio Un'utilità Proprio Micidiale Eh Stefano sei morto Lo sai no Ma io ho la bomba Tanto Ciao Stefano Dai Oh Oh No Sei inutile Sei inutile L'ho fatta la D L'ho fatta la D Prima L'ho fatta Ti spiego Prima la V Poi la V E poi la D Così le rallenti Sì che casomai Con quello la Non ti avevano preso Sì esatto Ho lasciato Lucio col mezzo E non l'avete finito Cioè ma Non vi fate Pentitevi Ma come cavolo lo prendi Cioè io Allora Clicchi col destro E lo colpisci Sì Quando e dove Che io lo clicco Sulla mappa Su Heroes of the Storm Ma che C'ho le oriche Che Saro Niente Devo fare tutte cose io Mi devo curare Non sei mai Tu 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 Basta Sale Ah Parapara 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 Baldracca Doppio su Quale può fare No ho preso Alex Traso Prendilo Quello coso schifoso Non è nemmeno Cioè Stefano Ti rendi conto Non è nemmeno Big Bubble Come osa Ma io voglio Uccidere Alex Traso Se c'è No Ora cassa Resta là No Sei una Baldracca Ti odio Ma come ho fatto Abbassare Oh no Perché mi si è abbassata La visuale Aspetta Che ho fatto Oddio Non ho la rotella fatta Oddio Non mi si è alta La visuale Attacca Bravo 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 Così Oddio Vuoi morire Ma mi si è Alza la visuale Oddio Non so qual è L'hot kit Ecco ce l'ho fatta Da solo che si chiama Hot Cooper Non posso Allora il problema è che Ho disabilitato la cosa Per scrollare Infatti Questo è il rumore Che stavo facendo Prima Era il mio mouse La rotella del mio mouse Stavo massacrando Ma Ehi ragazzi Però altre ore Che siamo qua E nessuno Dobbiamo evitare Eh santo Lo so Abbiamo nuclearizzato Bot noi nel frattempo Poi perché siete nabi Perché nel frattempo Quelli che ovviamente Sono venuti Di sopra Sì Certo Eh Sul luce Sul luce Vabbè Distrutto Uh Bello Quell'interrupt Oh cavolo Io non ho la ulti Quindi per ora Non sono proprio Eh giusto Perché la vita Stefano Eh sì Ma guardalo Guardalo Un installed Gabri un gabbiano In questa direzione Aspetta Non lo so dove Non ce l'ho A parte questo Ah Splat Utile Ragazzi Pronti vai Santo Pronti vai No Un gabbiano Aspetta tranquillo Più Vai Santo Sì Corro Sì Akai Dai Mamma Il devasto Eh Quanto Voglio essere Emote Eh Non ne ho idea Perché a quanto pare Devo essere Direttamente partner Di Twitch Per avere altre Emote Sfortunatamente Perché è andato Di potenza Fragile Eh perché Lo può fare Non lo stanno Focussando Mi Addirittura Perché sto Batti il 4 Devo sapere Perché Vai ragazzi Vi ho potenziato L'attacco Ok Questo lusico Non ha capito E poi Tutti i cocuni Saranno per lui Peccato che No L'ha Vabbè C'ho questo Ci basta Dove vai Ma dove vai Aveva provato a giocare La cura La cura La cura Che vuoi Ma no Non ho despedare Che ho la missione Ho la missione Non me ne frega Poi ti chiedi Perché non ti curo E tanto Non lo fai lo stesso Quindi Non è vero Attento Non puoi fare Ti piangerò Ci guardo Saro che cacchio Stai facendo Stavo divertendo Era divertente Vero Obeitare Piangerò La tua morte Oh scusa Non sono morto Ong Guarda che ora Atterra qua Oh quasi Ragazzi Quale è il problema Ritiriamoci 5 secondi Facciamogli Un bubusezzo Ong Ora bubuseppe E invece Ahah got him Ragazzi sono madderini qua E santo Chi sei soldato 76 I got you I got you in my psyche Ma perché ti stanno inseguendo fino alla morte Perché ne so Sono un pochettino madderini Ma che fogliono Oh andate via Ragazzi L'iperion Ragazzi io c'ho un Arthas particolarmente madderino Eh volevi Ragazzi Ti stanno inseguendo Ciao un Arthas Ciao un Arthas madderino Grazie Ora il gabbiano pure Per ringraziare Della compagnia Arrivederci Ah Stefano ti ho curato Cioè Sembrava un globo rigenerante Per quello che ti ho curato Però vabbè Mamma mia il supporto che ero Guardalo guardalo Che fa sto Arthas Prendiamoli Vai Li ho gabbianizzati Champion Oh Champion Ma lo stiamo Oh Oh L'estensione signore Eh ragazzi ma Non vi piace Dai Go 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 Champion Fogli che poi arriva cosa Miss Eh Non puoi che arriva lì Eh non puoi che Cosa vuoi Scusa Ora fa marcellare Nero Guarda guarda Eh che fa dentro L'ho scontato come Un lepario a doppia lama CINDER È stato molto utile Il tuo intervento Il tuo intervento è stato molto utile Grazie Ci sappiamo Un altro po' di exp Ok dai Abbiamo Sylvanas Ragazzi Arrivano ancora Sei frega delle bombe No io ne ho una bomba La voglio prendere Ok Noi Sono un bombarolo Me Me È perché sono Genio Lo butto nel mio nucleo Bravo Hyperion Hyperion Rem No Ho curato Cioè l'ho curato Ogni volta Purtroppo L'ho fatto Che sto nome Tipo femminile Barberi Mi viene Di chiamarlo Bello Quell'interrupt Su Alex Ragazzi Su Alex Su Alex Vieni qua Stefan Nabbo Scinde Ma perché ti sei sentito nominato in questo caso Il nabbo era riferito a Stefan Stava parlando con me Mamma mia Niente Ormai Ma senti Voi che mi avete inculcato questa cosa Ma vuoi sapere perché Siete un attimo Non dovesse a cagare Invece ho Thanks a Stefan Però a me non mi ringrazio Diremmo che ti ho curato Vabbè però Il colpetto Va Non me ne ringrazio Ebbè Non me ne ringrazio Ma non è giusto Perché forse non te ne sei accorto Ma sotto Tori ci stava morendo Sì Non te ne sei accorto Ma non me ne frega Darò fuoco a loro Ah no scusami Non è Blaze Ciao Artas C'è proprio Delete No Eh non ho purtroppo Immediatamente No è niente Facciamo così Gabbiano io lo lancio Perché ci credo in Stefano Vedi Saro No Ho prenduto la cuma Vabbè ciao Non sono Nabbo Se mi avete lasciato da solo Contro Ray Mizzicato attenzione Tu sei Stukob Sei Stukob Ah grazie Sandro Appunto sono Stukob Non sono l'altro E quindi Vuol dire che dovevi ucciderlo Come minimo Come lo ammazzavo Ha colpito di manate Certo E perché come lo vuoi ammazzare Stukob di manate Scusami C'è già a livello Sì lo so Fa 500 di danno Ora come ora Ma Il gabbiano Parlare con Nabbia è inutile Nuclearizzi tutte e due Ah sì Nuclearizziamo Varei Io nuclearizzo un pochettino La porta Così magari Apriamo Attenzione Arriva l'extrasa Dal flank E poi rientra in moto E io la stardisco No è una porta No no stava volando No santo santo Non ho la cura Sto usando il goal di Arthas Per ricaricarmi Se ne è scappato Se ne è scappato Grazie ce ne andiamo Se vieni qua Lo curo Santo vieni qua E basta Vabbè marcia R nero Ah no Morta e basta No Esatto Grande Fatemi ritirare che non ho mana Intanto comparirei per i secondi di silenzamento Esatto Ma che io No Ma questi qui che stanno facendo per curare così Cioè com'è possibile che io sto curando 22.000 e Alex Trasa 30 Vabbè ma perché sicuramente non li stiamo facendo curare bene Gabby Col Cucun E con vari stun E beh certo abbiamo una squadra con un crowd control allucinante Che faccio 880 ogni E Vabbè Quello lì che hai messo nel Cucun Cioè in principio se è solo è morto Cioè Io proprio vado per la play È morto È la play sicura Eh senti Nabbo vieni qua Allora non vengo ciao Ma quanto gli ho fatto 1100 con una E Mamma mia Stefano Grazie Io vado per freccia gelida È qui Che Stordito silenziato tutto Piangerò Che cacchio è successo Piangerò pure io Bello che l'ha silenziato Cioè proprio non puoi giocare Io non ce l'ho la bomba No quindi posso prenderla La nostra potenza Ma è uguale Scine Ragazzi però così è bene E mi trattiamo al trattamento Già veramente ragazzi Perché va al trattamento proprio Povero luso Che vi ha fatto Questa è perché non ha preso la big bubble Sai perché non è big bubble Questa è proprio la punizione Cioè proprio lo distrusse Lo sai perché Perché se era big bubble Questa qui Se lo mangiava Cioè ci spattava Cioè proprio ci distruggevo Guardalo Reynor Guardalo Reynor Attenzione Il gabbiano Ma Dai va bene Questa me la sento un po' rubata Lasciamo perdere Andiamo Ragazzi potevamo farci 10 boss tipo Però vabbè Cioè Nessamente sta partita È totalmente Vabbè voglio nuclearizzare Troppe bombe Troppe bombe No io lo stavo spavendo su di loro Non è così che si usa la bomba nucleare Scusami E poi mica le paghi tu le bombe nucleari Ma te chi te lo dice? Non lo so Ma è esplosa Dove vai? Ragazzi chi siete per Reynor? Ragazzi ma vi svegliate che dietro c'è C'è Arthas che mi picchia Ma non me ne c'è Il gabbiano Eccolo No ragazzi Ormai distruggiamo tutte le torre Fatemi fare esperienza Effettivamente sì Aspettate guarda come si fa Cioè faccio il 1019 a una torre Aspettate Distruggiamo pure questa Dovre questa pure questa pure questa Proprio il disrispetto Santo santo Trajardiamo in modo assurdo Dai 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 Eh possiamo finire No però Santo no Io curo Più di stuco In questo momento Mi sa Sì sì Volete ucciderli un altro pochino No Cioè letteralmente gli abbiamo distrutto tutte le torri Ci siamo guardati in faccia e poi Capisci di essere pro Quando sei il tank e fai più danno di Reynor E di Leoric tra poco E sempre No ma No ma Giustamente Chi sei tu Hai fatto questo E indovina chi sono io Sì ci sei tu Non c'è Rem però No 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 Guarda Che cosa sono Guardiano Sì è sempre Ci dono Con sto guardiano Sogno Oh è la quarta partita Dite che prendo guardiano Alla quinta Sì davanti Sì davanti Ehi attenzione Fa anche un nuovo livello Con tru Obviamente C'è un posto Ti preoccupare Da troviamo Che cos'è Sto forziere Oh Stimpecchia D'altro giorno Ho trovato Scusate Io lo sposterei Nel banzar di occhi Però vabbè Ma che ha fatto È uscito Ma che sta combinando Ho sbagliato Vabbè io ritento sto coso Basta mi sono seccato Di tutti i comuni Ok a me non posso Prendere qualcosa di più Vai di nuovo Di Tyrande No Basta Basta È tipo Quante partite ho fatto Con Tyrande Oggi A farmi vomitare 1 2 3 4 5 6 7 7 Ragazzi ora Avete delusio Magari diamogli un posto Allauda Che hai aspettato Poi se c'è qualcun altro Anche Vai vai Visto che tu sbadigliavi In maniera tipo Doggo Vuoi giocare? Ma c'è anche Mauro Ma perché non facciamo Personalizzare? Ma perché? Allora Ci sono tanti motivi Ti spiego Allora A parte la mancanza di otti Giusto? Però il problema è Che tu trovi 200 miliardi di leggendarie Su Overwatch E spatti te Lo dici ad alta voce Sapendo che io Trovo solamente banane Ma ho trovato Lo sti imbacchiano Altri giorni Ma lo devo dire No Ma perché? Lo vuoi sapere perché? Saro Saro Mi dispiace Ho io il privato Delle leggendare su Overwatch Mi dispiace Spera farò D'aspettatore Ok Ah ok Mauro Ok Ok Ragazzi No Decidiamoci Un posticino Per mattina Ah Santo tu vuoi andare Aspettate Fermi tutti Sta andando mio fratello Ok Mi risparmi di uscire Comunque Vediamo Posso usare un pochino Lo scatouche Mi adatto Cos'è lo scatouche Ma come cos'è lo scatouche? C'è anche Non lo so Cosa vuoi? Ragazzoni Un posto Gli vado io Gli vado io Non c'è bisogno Non c'è lo scatouche Gioco dopo Tranquillo Ma ti Allora C'è qualcosa Sono Ma che Che Adesso dopo questo Mi seguo Almeno nella live Basta Vai vai Ok ragazzi Aspetta Ci sentiamo dopo Ci siamo tutti Quasi Non divertimento Ok In più La cosa posso usare Ragazzi Questo qui Bravi Vuoi un supporto? No Più che altro Per la Per la mia sanità mentale Che non ce la faccio più A fare tante Dopo poco Uno si stressa Essere picchiato Uno fa male Gabbiano Vado Gabbiano Ah Vuoi andare Di Mediv Gabbri 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 Guarda 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 Ti Gabbia Capita Sì Vorrei andare Di Uther Vai Pure Di DPS Vai Tranquillo Vai Anche Perché Anche Uther Ha bisogno Di essere Ripraticato Una domanda Vai Dottelamo Allora Supporti Ora mi scrivo Anche su Supporto Più o meno Sul Tailand Vabbè Io vado Del Coco Supporto Tira Il Tank A Zib E' stato fatto Quindi mi sa Che lo cancello Anzi Lo lascio Non si può mai sapere Morales Mettete pronto Sì Devo Ok Scusate Stavo Stavo Controllando La lista Di quelli Laga Devo Fare Che precisione Che cosa sono Ok Siete tutti Quasi gialle Poi arrivo io Verde Esatto Ciao Io quando uso Medina Non lo devo più Utilizzare Ma perché C'hanno Molta Siete un po' più Specialista Ci arrivano a casa Ci arrivano a casa Ci bussano Si può Stefano Marco Che c'ha Sì Marco Saro dice Dalla chat Che punta Scana Dico No Cuso A te Ti rendi conto Ciao Oh Nessuno mi aveva insultato Così tanto Come un nostro amico Che mi ha detto Ieri Che mi ha detto Che sono uguale a Otti Cioè Che affesa pesante Ragazzi Questo qui Scherzo a parte Siamo un canale Molto Equilibrato Queste brutte parole Non si dicono Cioè Sei un Otti È una brutta parola Che non si deve dire Ma perché Non voglio entrare Nella Yeah H H Boy È stato bellissimo Yeah Boy È stato troppo divertente Io sono Sono sopra di voi Vado per colosso Beh Potreste anche andare A doppia lare Ma te sei un colosso Già di tuo Eh Culattone 5 4 3 2 1 Sei pronto Tu grabbi Io ti teletrasporto E io stordisco Partecipo anch'io E bari Ci voleva Ci voleva Batcher Sinceramente In quel team fight Con tanti stun Vieni qua Esatto Scusatemi La risata Un pochettino Scusate Fatevi passare Vedi Stefano Vedi Stefano Io prendo il portale Ma tu lo so Gabri Ma è appunto Che Ma Hyper Proprio Ma ha sorpreso Sto giro Ha preso il portale Ma scusate Se lo prendo io Tutti lo vedo Oh peccato Usati E mentre Stefano muore Bossalasso incredibile Forse Oh È un folle Lei è un folle Aspettate Ci penso io Mattia Questa W Comprende anche Convergenza delle LQ Dai Guarda ora come le azzecchi Tutte quante Li Ming non hanno cambiato i talenti Per caso No Li Ming No Tutte Ma perché quel muradine È scappato così Perché è un pull Aspetta 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 Ci penso io Oh Ma dai Quel minion Però Picchiate quel minion Ma mai è quel muradine Ah Ti piacerebbe Maiev Ti piacerebbe Basta seguirti Ok Sono Body bloccato Uccidete Maiev Oh L'idea era buona Però Ok mi piace Che così Sono potuto scappare Ragazzi sono senza mana Tornerò presto Ma quella maiev Mi è salta in grado Sì Vabbè Lo so Però l'importante è che Si è levata Ragazzi Eh esatto Chi ci va a botte Mi sa che ci andiamo In due almeno Arrivo Matti Tu cominci Vabbè Vado io Vado io Vai sopra Ti vede Ti vede Ti vede Rallentala quanto Più possibile Eh Un po' difficile Dora non ci fosse Quale il biostratto Miss Non riesci a spaccargli Robo la Q Sto sempre in mezzo Ma Si si Lo può fare Comunque Ah vado di fuoco sacro Così glielo sfascio io Facilmente Vai Matti Vai Matti No Doveva avere la Q Vedi Mi sono pentito Già del talento Che ho scelto Ma Sai Aiutami Perché No Fuck you Thor Ah Mi pare Le top kick con l'Uter Era così facile Non lo ricordo male Non trovo la partita con il ming Qua Pensavo il portale fosse dentro al muro Mi stavo preoccupando Fortuna la mista Uffa Sarei dovuto andare per fuoco sacra Lo saprevo Lo saprevo ovviamente Lo sapevo io Però è buono questo talento Perché quasi distruggo i biotumori Senza che Si usino abilità Io sono il martello Della giustizia Vedi Ma perché sto parlando con un cretino di nuovo Vedi Che caspita è Che te li hanno correggiuto Vedi qua Ah poverino Non c'è in questo Oh mamma mia Da dove è spuntata questo obbrio Vai via Allascati Allascati proprio Ok Si vabbè Ma cos'è Vabbè Attacca Muradina Sto mondo Morto per morto Peccato Sì sì Buttati qua sotto Ah peccato Speravo che ci provassero Innestamente Già avevo la E pronta Già avevo la E pronta pure io Ma chi è i dobloni? Un pochettino Viper E poi Nessuno Ok questo qua E madderino ragazzi Ma ha già finito la questo Ma chi? Fatto la finita la quest Al tibo Mamma mia Oh no Dai Rospis Fatto Oh non lo so Stefano No Che è? Vi è sparito il portale Mentre che lo sta terminando Per caso? A lui Mamma mia Prego C'è Uther Di StarTrap 2 Dai No Ragazzi venite qua? Sì Sto correndo No no Anzi no sto volando Attento Facciamo questo Faccio che gli stanno consegnando Aspetta un attimo che Ti l'hanno già fatto Non sto capendo Aspetta Mattia non parlare Perché Cioè no Mattia Scusami Fede non riesco a capire Un cavolo Perché non sto capendo Se stai parlando Della nostra partita O di un'altra E guardavo la tua Eh appunto Siccome c'è il ritardo Non lo capisco Se Caspita Sto succedendo esattamente Mamma mia Mi spostano a destra e sinistra Cessate il fuoco Se ne vogliono ancora Devono panare Arrivo a bo Siamo a un sacco sotto di expo Per qualche motivo Cioè Forse Due specialisti In questa mappa Due specialisti In questa mappa Ovviamente Cioè No ragazzi Non possiamo Oh Ok Adesso che ha usato sta roba All'el 10 All'el 10 Eh picchiatela ormai Ma mi spaventate Del 10 No Oh Vedete sto muradine Bodyblock Ok grazie Arrivederci E quindi Io Prendo il portale Arrivederci Mi prendo la fonte Ragazzi Dobbiamo Controllare Eh sì Esatto Il problema è questo Lizard Per favore Fate qualcosa Facciamo a fare qualcosa Solo se Ci riuniamo Ma se ci riuniamo Ci push Eh se ci riuniamo C'è sempre uno Che dice Tanto chi se ne frega Della squadra Pusha fino al Corre Liberamente Ultimamente Incontro gente Che proprio pusha Fino alla morte Ultimamente E da mesi che ormai È così praticamente Gli ultimi due mesi Quando gli incontri Nemmeno fanno Nemmeno scappano più No no Si fanno uccidere E basta Non muoiono Esatto Cioè Tanto che se ci muoio Ormai Chi se ne frega Sto facendo perdere tempo Stanno facendo questa Campetta di mecenari E noi non possiamo Farci un granché Eh Proprio Bottano Eh sì Difendiamo Sì il turnino Dobbiamo difendere C'è sempre che Zagara Ce le ha Zagara Ma attento Arrivano qua No non ce le ha mai Ce le ha Zagara e Morales È però inutile Stare qua Fermo Ha la navetta Ha la navetta medica Altra mobilità Tanto Non ce ne è assai Tanto Cerco di distruggere Tutto il biostrato Possibile Perché non si può mai sapere Quando Non sarà per scappare Eh Sì Lo vedo Io volevo pulire Qua bot però Uh nice I muri Mi bloccano Pure il grab Vieni qua Matti Matti a Viper Dico Ragazzi vi allontanate All'healer Preferito mangiarla Attenzione E tornate a Maya Ma vai a quel paese No Che mezzi Nice Vai ragazzi Mamma mia Quella Maya Ve l'ho Proprio Massacrata Ma guarda tutti specialisti Che non la bruci Puff Ho una mano qua Aspetta aspetta Eh io stavo scendendo A botta ragazzi Perché ci sono quei mercenari Che se no Nascere uno solo Beh No la navetta medica Beh parte Peccato A questo punto Cerco di Prendere ex Ragazzi 10 ore Eh Dovremmo difendere Anche tu Comunque Marattia Scusa Non sei andato Di cura Non hai preso Il talento Al set Di cura Contro Muradin Ce la facevi Tranquilamente Perché Non sei A parte Che quel talento Sul colpo Del colosso Fa abbastanza Non hai preso Doppia lame No Non capivo Sì doppia lame Con muradin Che gli rallenta La procedura d'attacco Non mi piace Doppia lame Tutta la vita Attenzione Ragazzi io sto pulendo Le lane Nel frattempo Ci hai fatto fare il trade Sì vabbè Ma è impossibile Come di Devo fare lo specialista Stai arrivando ragazzi Scusatemi Guarda Stefano Arriva ragazzi Arriva 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 Non ci credo Guarda Eh vabbè Quella morale Aveva tipo Dieci hp L'ho visto Io sono arrivato Purtroppo Un pochettino tardi Colpa mia ragazzi Che purtroppo Sto dovendo pulire le lane Se no non lo fa Nessuno E più che altro Io sto usando la ulti Semplicemente Perché Banjo la gente Sì E vabbè Pure questo Arrivo, arrivo, arrivo Cioè Stefano Il gabbiano Stà 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 17 secondi Aspetta un attimo Arrivò Guarda un po' dove stanno andando, giusto, giusto Inseguite ragazzi, inseguiteli mi ha salvato mi ha ucciso prendete quelle monete ragazzi dobbiamo cercare di prendere campetti di mecenari e monete caspita avevo detto questo muretine è un pochettino madderino è permesso guardate quel nazibo perché in effetti non gli hai fatto niente aspettate ragazzi mettete in fila mettete in fila ok se ce l'hai in portale eh si ok guarda questa beh ma sospeso ragazzi non vedo nulla di quello che sta succedendo ok eccomi cosa è successo chi devo curare ok te ragazzi nooo di nuovo da caso da 29 era 29 e mori ok i globi che presto non c'era nessuno peccato non è fatto tempo ah già mamma mia che odio vabbè ma cioè avere le catapulte è penoso a meno che non la faccio ora non la faccio mai più sta cosa di questa normale master touch la metteranno poi la implementeranno direttamente nel kit base di mediv si si da quello che ho capito ho letto questo non è un pochino più così no perché comunque ti costringe a prendere un talento per una quest che alla fine potevano mettere come baseline che come vedi cioè lo sai che non è così facile finirla in certe situazioni devi stare attendo eh lo so vediamo cosa si inventeranno finché da uno specialista all'altra squadra non è niente si appunto dobbiamo difendere il turn in dobbiamo cercare di vincere un fight ora che siamo 16 e 16 aspettate stavo pulendo le catapulte eh che brocco vabbè la cosa buona è che mi ha bloccato adesso che nel fight ancora deve cominciare la gara è qui eh ok ragazzi eh per ora concentriamoci qua io voglio far esplodere a morale si bello non la mangiare no non c'è bisogno eh mangiarla in questo caso ci impedisce di ucciderla facilmente ma almeno vabbè è morto bella Stefano bella 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 se muoio non vi preoccupate se muoio fatemi morire piuttosto così vi posso curare forse no eh ve l'ho detto lo scudo lo scudo lo scudo mi ero salvo perché vabbè ma non è l'S che cosa di unbalance dai ritirati dove stanno andando tutto giuro allora è morta Maiev cosa c'è però una zibbo là dietro non so come sopravvive più che altro quella mangiata ci ha fregato completamente io avevo usato il colosso anche per farlo esplode lo sai che devi mangiare o a Maiev eh sì sì prima ho mangiato duro vabbè ma come back poco 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 troppo poco sta andando al boss sta andando al boss no 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 penso che stanno soltanto culendo ragazzi cerchiamo di fare campetti qualcosa non vi preoccupate vanno qui sì a me sta build di uter non mi piace mi sembra che non curi niente con tutto che mi sto impegnando sì vabbè prende sempre io non ci credo che sta succedendo ragazzi nice genio adesso però non ci morire scappa scappa ma arriva arriva arrivo Maiev si è confusa un pochettino ragazzi potremmo fare un fight adesso che ma che arrivo maiev dietro maiev dietro ragazzi maiev dietro giratevi eh mi ha messo il mio sospeso eh occhio zagara zagara nelle retrovie mmm questi sono ful ma ti dobbiamo cercare di consegnare quei dobloni che c'hai oh no rem vai vai ingaggiamo solo uno in me no il portale mamma mia ma quanto ti hanno scoppiato no non ce ne vanno a mettermi lo studio con cura c'è proprio zero eh vabbè vabbè è già un attacco base di maiev che mi fa 411 però dai si leva la vita eh vabbè se mi vedono lo stesso non so come quella cacchio di muta disca eh guadagniamo tempo eh vabbè che devo fare divertente ma che build si è andato nella tipica build da healer che si fa no però come l'impressione che mi piace di più a livello 13 no non prendo quello lo so ma effettivamente non non ti conviene perché aspetta ora puoi controllo il 13 che c'è al 13 non c'è scudo magico colpo preciso però meglio scudo magico ma sicuro perché ai tempi io utilizzavo questa cosa dell'auto attack con la q per salvare la gente proprio col mezzo che il vostro nemico abbia già saltato spara via 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 prendete il portale ho preso vai ok è già qualcosa perché la potete uccidere comunque non c'è creduto non c'è creduto cioè non è morta e grazie la cù l'hai tirata indietro effettivamente ha fatto una carica allucinante però perché è già gara che vuole sto coso ferma io sono morta e vabbè e vabbè pazienza via 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 grazie ora non lo posso più giustare vieni qua stronza ecco è l'angolino ma io ho la mobilità di un camper ho armato ha curato 900 e passa se fosse molto lo stasore oh cacchio vabbè ma pure io non facciamo danno pure perché non ho finito da questo ah vabbè ma non è eh sì effettivamente il nostro danno è leggermente ridicolo ridicolus ma mi sta facendo quella mola adesso ah vabbè gg hanno fatto guarda il danno da serio il danno è anche guarderei loro la zibo è cioè abbiamo più kill di loro però ma non interessa perché l'interessa per lo più però il nostro danno è molto molto basso discutibile per questo io ho detto meglio meglio cosa meglio doppia l'altra ma poi ovviamente prendo tre da farne e ci sta quella che spawna le blood con l'evo si ebbè doppio specialista è una cosa ingiocabile il muro di la zibo e il grab era l'impossibile ho come l'impressione che proverò un'altra build per l'evo però purtroppo devo riuscire a capire che cosa io guarda quale prendo io a livello 13 prendo la e colpo preciso lo so c'è ma cos'è quella cosa per questo no l'ho usato molto spesso sto talento però fatemi vedere che cosa volete utilizzare ragazzi che ci adattiamo dai un giro di giostra me l'avete fatto fare ora tocca a me vabbè ci riprovo vado di un'altra build questa volta vediamo se va meglio sai però io ti voglio aiutare ma davvero si può essere un'idea e mi metto pure il giallo nè nè vabbè io mi metto con Uther però cos'è è il farming dai son da un po' senza duda oh prendo specialista aspetta ma quasi quasi prendo specialista vabbè se prende specialista aspetta mi prendo da una barata no o mai vuole una uscire qui lo sai cosa ci sta il colpetto tattico di Keltas o di Chromi e si finisce o di Giaina mi piace perché lei mingava il brutto vizio che se c'è qualcosa davanti la bloccano li bloccano e lo attacca esatto ma è bruttissima questa cosa però datemi carmi datemi carmi datemi carmi Kukun su Chogal proprio lo sapete pure le ossa gli dovete levare aggressivi sulle coste prende il gancio non lo silenzio del tutto Chogal silenzio sono un ghiaccio giusto vabbè io tranquillo io so il mio voto lo butto sono a baracca tutto il gancio mettilo sul Lucio si si però non so vero Gabriel se lo mangio cosa se uso il gancio su Chogal silenzio solamente a Chogal si infatti però nel bozzolo se mi pare che sia punto ah nel bozzolo sono tutte e due vero silenzio soltanto Chogal vabbè qui vado di resistenza magica certo yeah cacca cacca boy con Gallo e la resistenza magica subito allora prendo la fonte go 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 ok ok ingaggia vai perché ho paura no è un cazzo cacca cacca non è Chogal oh ma l'avete vista che vuoi eh oggi è aggappato vai ma l'avete è dritto è ubriaco ah ma ecco perché parlavate di Chogal perché c'è Chogal mi ha già sottato vabbè ma è se contro il murlocco mi piace esatto due contro un povero pesce ma mamma mi fa ragazzi c'è un nazi batop dobbiamo cercare di mamma mia focus focus di che eh ormai cosa ahia mi sa che tu vieni a lontanare mi sa che tu vieni a lontanare capisci mi coi ragni i ragni ah sei stupido i ragni mamma mia che fastidio bene ma diventa impossibile ma che scapparo stavo guardando altro va bene ah fate i broccoli vostri arrivo mid no ok questo non ci volevo ok ora si ma guarda quei ragni sono pure stupidi che non mi attaccano ragazzi comunque è molto divertente giocare Uther contro Nazibbo è molto divertente arrivo io top si sarebbe ottimo si ok io vado sotto il cromi se la vedi da sola contro lusine varian è in sabbia vabbè lo scatusce ragazzi non ti piacciono i broccoli non sono problemi miei ok ho il broccoli ma parlavo con la chat mess mess no questo mi ha preso oh c'ho cal che 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 push ancora non l'avevo mai visto ma tutti push in questo meta quando pare si si dai l'uso continua a farmi continua a darmi stack della mia sembra che ci ho detto ingaggia vai per quanto ogni volta le mezzo ci vuole water butter water tu vuole mezzo qui abbiamo un ciocalla che non ha vita gli db e c e di ciocalla io vedo che in tanto rem si sta divertendo è a 21 stack quindi sta sparando pure l'anima arriva vabbè ma se no non ci credo ciocalla non sta salendo ciocalla non sta salendo what e metti di sotto un po' di più e facciamolo cioè what ma for real non schivano appunto quindi meglio per noi ma perché ciocalla split push adesso ma che è sta storia ma 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 sanno leggere forse perché forse non sanno leggere il fattore guerriero assassino cioè non l'avevo mai vista una cosa simile adesso ma 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 tanto si vince distruggendo il nucleo cioè ormai gli obiettivi non si avvano più a niente praticamente cioè noi che stiamo perdendo tempo a fare qua esatto voglio uccidere vai guarda è stato lavorando su del forza ragazzi però facciamolo subito perché facciamo lo st'obiettivo almeno gli deve costare qualcosa riprendo l'expo no mi sa che è meglio vabbè non l'avete io no assolutamente no è arrivato a giocare oh no ho ucciso lo stesso no per sei no per sei mi sa no per sei onestamente ma li prendiamo noi infatti gliene ho rubati un paio no sono un pollo potevo usare la no viper non c'è bisogno stefano vabbè ma mi hanno vengato è uno ragazzi per uno guarda no il mio minion nemmeno ragazzi veramente per uno mi sto squaventando ci pensa a battle con la sua cu ci muoio ma almeno abbiamo il coso aspetta vai per ti curo vabbè ma questa è proprio la sintesi che è questo qui ora va colosso a me mi squaglia e siamo tutti morti grazie gioco qualche altra un'altra partita possibile più che altro la rottura di scatole cioè non ha senso non hanno senso ste torri la giustizia è qui la giustizia è qui la giustizia è la luce ragazzi ho puscia come l'anima però me che di botte vado a botte vado cioè scusa in che senso ha a sto punto avere ste torri dare agli obiettivi a sto punto lasciamo agli obiettivi e noi pusciamo beh però il punto è che loro mi sa che hanno più puscia ci avvicinano a zitto ma se se si avvicinasse ciò gal lo picchierei un poco ci vedremo però oh faccio vedere eh appunto ora muori vediamo chi può fare già ho finito la mia quest deve iniziare a fare carne se no può e ti rompo pure il muro perché faccio scusa prendiamo sto coso ragazzi siamo in quattro vai 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 ci sta morendo robot di blocco l'abbiamo robot di bloccato in due restiamo così oh e levati va facciamo il campetto facciamo gli campetti ragazzi facciamo tutto anzi vado un attimo facciamo prima questo ragazzi però sì addirittura colosso per il murloc mi hai fatto molto guarda vai vai io ci sono no ho paura ah percato no no non ci credo io qua vado di scudo divino ho il mio talento onestamente io carico vabbè dai va bene vabbè colpo basso non è male ma su talento ragazzi quando volete adesso adesso vai vai non ti ferma nessuno stordisco l'ogret qua basta affaro oh mi ha tirato purtroppo l'ho stordito dai vabbè con l'usio 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 vabbè sì quello che è non ho più mana non ho vita no no ma che mmm ho spaccato la Q mmm bello che mi si è caricato il mana giusto giusto nel momento proprio stavo spammando la Q è scoppiata la palla boom è morto che vita proprio oh no vado un attimo a top ciao buf scusate hai permesso si può ragazzi scrivatele le palme eh non lo sapevo che tornava in dieta vabbè sì il povero murlock ci abbandona qui rip ora vai adesso vado top guardalo il culattone guarda prendilo venite invece tutti all'obiettivo ok polpo basso sull'usio e lo facciamo saltare in aria per favore ok eccolo arriva norem madonna ecco Stefano buono ok metti ciocale nel coso adesso se ci riusciamo sarebbe buono prendere ma lo squalio no ma l'ha messo su una baracca che è un caspita di car armato mancava cromi ecco non è che mancava cromi è diversa la cosa è stata shottata cromi vai vai te lo prendiamo no ma non muore no lascialo dai guarda la controlla non ci credo niente te batti vabbè ma è assurdo se però se finiscono a questo è lo certo il nostro dam è ridicoloso eh noi avevamo cromi con cromi non trovo no guarda pure è nella forchezza occhio occhio fermati oh my god oh mamma mia c'è vabbè mamma mia mamma mia oh scappa eh fermo una parola curarvi con tutto sto busto che ci hanno no questo non è busto questo è proprio distruzione mi conviene hanno un occhio eh what the fuck perché mi ha ti è caricato esattamente basta ora c'è dove volai sopra invece oh però sto cargando una pasta una stocca arrivo solo qui solo qui occhio ste tranquillo 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 ci stai morendo malissimo lo so ragazzi disingaggiamo dov'è ma io ho finito sto fight in teoria ma eh l'uovo è andato non mi posso non mi no rem non posso manco aiutarti o forse si aspetta un attimo rimani in stasi ancora un po' oh beh sopravvivici ti prego no ma vaffan 13 dovrei scappare verso la torre ah lo penso per le ulti scombinate cioè si proprio ah sai quando il loro danno è OP ma il problema è che sono ci manca solo questo eh lo scudo divino per questo ti ho detto vai verso sopra eh l'uovo muore sto punitore no prima mi deve congelare a me ragazzi sull'usio sull'usio ora che mi ha tirato da lui praticamente lo si ho provato a stordirlo ma dai è impossibile e ora esce vai no mamma mia appunto ora esce varian e fa la kill guarda lo scipallo è inutile io sono inutile eh sì murky in una in una sentenza che dobbiamo fare stefano cosa dobbiamo fare quello a livello 16 è ancora più inammazzabile di prima eh sì ciao l'usio ti insegue fino alla notte dei tempi c'è poco da fare purtroppo in queste situazioni vabbè ma noi siamo caprici di vincere un fight è impossibile come noi si vede dall'inizio si vince vabbè non è vero però il problema è quando la nostra composizione è fatta un po' così wow attendo che ti hanno distrutto l'uovo no ma il punto c'è bisogna avere pure fortuna voglio vedere se mi prendono ecco appunto maledizione no eh vabbè ok ma la torre è inutile cioè sì non ti posso attaccare sotto la torre è easy easy oh cavolo e quindi e quindi dopo che hai fatto questo mi salta in aria con mezzo mezzo attacco di shoghal no ma ce l'ha io non può completare però la quest quello alla stocca ragazzi abbiamo cercato di focussare l'uso un po' di più perché prima lo stavamo uccidendo no no io vado perché la panna non fa troppo danno eh lo sappiamo che fa troppo danno è quello il problema ma non faccio vattano non le caccio gatti sono quattro lea di suono no ma l'ho cacciocato non può se mi è arrestato sì lo so ho visto qua mi avvicino albuce cioè il tempo cioè non so su chi mettere il scudo divino tra poco tempo che decido esplode qualcuno cioè siete in due che state perdendo vita mi ha shottato con la palla cioè mi ha fatto 900 di danno io ho 1200 di vita cioè come come faccio guardalo pure col mezzo no vabbè ma eh ti spiego Gabri guarda dove va infatti è in giuvinesca il 2 lo sai perché sono sempre fuori Gabri perché sono due tanti guarda Lucio che ha preso in giuvinesca domani non possiamo competere a meno che a meno che a meno che a meno che a meno a meno non 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 con l'acca d'ante non voglio scherzare lo so ma non mi piace basta sono qui amore ah l'ho ucciso io no vabbè va va bene va io di che sto morendo ora di palla io di sguardi se lui mi guarda io muoio beh vabbè è un'area stabile non toccarlo vedi il che potevamo fare questo si chiama lo sai il pestamento tempo proprio il peste cioè stati sì perché giustamente noi abbiamo urchi allora faccio cal vabbè grazie giustamente c'è proprio massacrati e vabbè potevamo farci vabbè ragazzi io direi che mi fermo qui per questa sera ringrazio tutti coloro che hanno giocato ringrazio tutti coloro che hanno guardato e per il resto vi auguro buonanotte buona giornata in base a quando stavi guardando grazie ancora e ciao ciao ciao